L'iscrizione online al primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Bari, sia per l'iscrizione diretta o con l'esame di ammissione, prevede la creazione delle credenziali, login e password di accesso alla piattaforma Easy Data. Si consiglia di accedere da un computer portatile o desktop e non da tablet o cellulare. Per procedere all'iscrizione online all'esame di ammissione è necessario disporre delle seguenti informazioni. Dati anagrafici completi, codice fiscale, indirizzo e-mail, documento di identità valido. Dal menu principale scegliere il punto 1, inserimento domanda di ammissione. Poi seleziona Bari, dal menu a tendina. A questo punto bisogna compilare il modulo con i propri dati e la scelta del corso a cui si intende iscriversi. I corsi sono indicati con TO per il triennio e BO per il biegno. Completato il modulo, clicca su Inserisci. Poi conferma i messaggi successivi. Nella sezione Invia domande c'è un riepilogo dei dati inseriti e di quelli da inserire successivamente. La sezione Stampe è molto importante perché entrando in Stampa richiesta di ammissione si chiede di indicare se si tratta di una iscrizione diretta oppure no e quindi con esame di ammissione. Inoltre si può scegliere se includere le immagini dei bollettini, i versamenti in tasse e contributi, in piattaforma oppure scegliendo no di consegnare in busta gli originali. Adesso rimane solo da controllare la posta e verificare l'avvenuto inserimento dei dati e la ricezione delle credenziali di accesso.